CRKT Columbia Rifle Knife and Tools questo modello qui è l'M21 un modello creato su specifiche militari se ricordo bene la serie più grande la manicatura è in acciaio brunito con dei fori per alleggerimento e pulizia il modello cristielo CLKT sono abbastanza ben fatti sistema di sicurezza linear lock la clip è fissa non è intercambiabile in più allora intanto il si può aprire sia tramite il tombstone che tramite il flipper posteriore questo modello qui ha una lama combo credo che sia in house 8 la produzione è sempre Taiwan M2114 M2114 definisce il modello credo che il 14 si riferisca alla lunghezza della lama il sistema di sicurezza come dicevo è linear lock in più è coadiuvato da un altro sistema di blocco dell'iner che non permette la chiusura dell'iner quindi bloccando la lama ed essendo ancora più sicuro portandolo indietro invece l'iner si abbassa e ci permette di chiudere la lama l'apertura tramite il flipper è abbastanza veloce qui vedete la lama è una spare point il coltello è anche abbastanza grosso e massiccio può essere utilizzato anche come coltello giornaliero l'apertura 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 l'apertura